Ciao a tutti, come avete visto dal titolo oggi parliamo del mio progetto smaltimento in particolare questo è il primo video aggiornamento per quanto riguarda i prodotti che ho deciso di andare a smaltire nel corso di un anno circa il primo video lo pubblicai il 24 ottobre, tutte le persone normali iniziano il progetto smaltimento a inizio anno io l'ho cominciato il 24 ottobre quindi procederò fino a dopo l'estate direi settembre ottobre del 2019 allora l'ho fatto a ottobre semplicemente perché l'idea mi è venuta dopo l'ultimo decluttering che ho fatto che ho terminato verso la fin di settembre se non mi sbaglio quindi poi ho deciso in quel momento di approcciarmi per la prima volta nella mia vita a un progetto smaltimento prodotti come vi ho detto nell'altro video è la prima volta nella mia vita che faccio questa cosa perché sinceramente prima non ho mai sentito l'esigenza nel senso che io ruoto moltissimo il mio make up quindi non ho mai sentito il bisogno di andare a focalizzarmi a concentrarmi sul finire qualcosa in particolare ho deciso comunque di inserire questo tipo di progetto nel mio approccio all'utilizzo del make up per implementare diciamo l'utilizzo di alcuni prodotti magari più vecchi eccetera ma il mio atteggiamento nei confronti dello smaltimento è un atteggiamento assolutamente sereno nel senso che io vedo nel make up fantasia, divertimento mi piace sedermi al mio tavolo da trucco e fare quello che mi viene in mente in quel momento senza particolari forzature non mi sento in colpa nel senso che comunque quello che compro uso perché compro solo quello che mi piace davvero a parte qualche cantonata che può capitare a tutti però non compro ciò che necessariamente è super di moda che ha un hype pazzesco e cose di questo genere per cui insomma il mio approccio è molto molto sereno nonostante questo credo di affrontarlo con un discreto successo almeno per quanto riguarda questi primi due mesi e mezzo in questo video voglio darvi infatti anche delle tips diciamo per riuscire ad arrivare a dei risultati discreti per quanto riguarda lo smaltimento prodotti in primo luogo devo dirvi che io, chi mi segue lo sa già ho due postazioni make up in realtà quella vera che è in camera, un tavolo da trucco con due cassetti e una cassettiera che contiene il 99% dei miei prodotti e poi in bagno ho una piccola cassettiera con poche cose per il trucco veloce per quando non posso andare a truccarmi su in camera perché comunque condivido la stanza con mio marito quindi per vari motivi magari non posso stare lì o perché ho estremamente fretta o non ho voglia, non ho fantasia quindi so che lì ci sono quelle poche cose che mi servono comunque per un trucco completo perché io faccio un trucco completo tutti, tutti i giorni ma ho poche cose, non devo star lì a pensare troppo e non faccio fatica a truccarmi mettendo la maggior parte dei prodotti che ho in smaltimento nella cassettiera del bagno mi rendo conto di usarli tantissimo perché non ho scelta quando sono lì quindi non ho la tentazione di provare altro avrete visto che ultimamente ho rinverdito un po' la mia collezione make up mi sono entrate tante cose quindi sto usando tante cose nuove ma lo faccio quando vado alla scrivania in questo modo riesco a gestire facilmente l'utilizzo dei prodotti da smaltire non tutti li ho lì man mano vi spiego andiamo ora ai prodotti non ve li descrivo non vi faccio una review dei prodotti perché sono prodotti che da tanto ve ne ho parlato tante volte ma soprattutto ve ne ho parlato nel primo video smaltimento che vi linkerò senza dubbio qui sotto vi linkerò anche i miei due video che ho fatto sulle due postazioni make up in modo che possiate vedere più o meno come mi organizzo allora partiamo nell'ordine in cui ve li ho presentati nel primo video primer di bottega verde e partiamo col più grande in successo questo è il Goji Perfect è un primer fondamentalmente idratante uniformante leggermente illuminante dell'incarnato partiamo col primo in successo perché io questo sono onesta non l'ho mai usato da che l'ho messo nel progetto io credo che dipenda dal fatto che come ormai sapete io non ho l'abitudine a utilizzare nel quotidiano dei primer viso e quando lo faccio vado a scegliere prodotti che mi vadano a levigare la pelle come vi ho già detto tantissime volte questo è un primer con un'altra funzionalità non ho sentito l'esigenza di utilizzarlo credo però non ne manca molto perché sento che è abbastanza vuoto che lo potrò utilizzare adesso diciamo tra gennaio e febbraio perché sono i mesi più freddi dell'anno essendo questo un primer idratante e molliente potrebbe venirmi maggiormente voglia di usarlo quindi comunque ve lo dico questo non ho mai toccato da che l'ho messo nel progetto poi un prodotto invece che sono contentissima di aver portato a questo punto è la mia celeberrima è una paletta da contouring di Smashbox che ho da una vita e mezzo le due cialde contouring e questa cialda di illuminante opaco polvere per settare contornocchi eccetera le ho terminate da molto il bronzer quello centrale invece quando l'avete visto nel primo video non era bucato c'era un po' di avvallamento ma non tantissimo come vedete l'ho bucato eccome io questo sono certa di finirlo nel corso dell'anno ma sono certa di finirlo prima di arrivare al termine del progetto smaltimento è un prodotto eccezionale questo è uno di quei prodotti che tengo nei miei cassettini in bagno tengo solo questo bronzer in modo che quando mi trucco lì io utilizzo solo questo lo uso anche per la piega dell'occhio non ho altri prodotti di questo genere nel bagno quindi vado a sfruttarlo facilmente prodotto da contouring che invece utilizzo nel quotidiano ormai da un anno è la Bama mamma dite me l'avete vista mille volte ve l'ho citata altre mille io direi che questa la uso 8 giorni su 10 e questo prodotto assolutamente si rigenera io penso che voi vediate che è molto molto scavata è molto più scavata rispetto al primo video che vi ho fatto ma io già la utilizzavo nel quotidiano come prodotto principale per il contouring continuo a farlo e questo è il consumo la cialda è estremamente pressata il prodotto è piuttosto scuro è un sottotono leggermente olivastro quindi bisogna andarci veramente piano col pennello quindi il prodotto che utilizzo è poco quotidianamente e questo è quanto io non credo che questa la terminerò nell'anno tanto per dire questo video cioè questo progetto smaltimento legato ai video mi fa capire più che altro quanto certi prodotti durino e quindi sia inutile per alcune categorie averne molti i prodotti legati molto al tipo di carnagione al tipo di pelle così via come possono essere fondotinta cipri bronzer prodotti da contouring ce ne sono giusto quei due o tre che ci vanno veramente bene e durano una vita quindi ecco giusto una riflessione così a margine poi passiamo alle labbra Kiko Smooth Temptation qui in numerazione 05 questo è un rossetto molto carino l'ho usato qualche volta ma non tantissimo perché come vedrete ho deciso di focalizzarmi maggiormente su alcuni prodotti rispetto ad altri mi sono focalizzata appunto su dei prodotti che trovavo più adatti come colorazione per l'inverno quelli che erano molto avanti come utilizzo in modo da poterli finire prima anche questo credo che sia un modo per affrontare con successo un progetto smaltimento se mettete nel progetto più di 10 prodotti per dire focalizzatevi magari a seconda del vostro gusto della stagione e così via su quei due o tre alla volta anche perché da più soddisfazione secondo me vederli arrivare alla fine e da più stimolo a proseguire il progetto allora questo è il livello del prodotto si è abbassato un pochino rispetto all'inizio non so se mai vedrete quanto ne manca ovviamente il prodotto arrivava fino al termine della plastica direi che ne ho utilizzato circa metà io credo questo di poterlo terminare perché è un rossetto nude che tende al caldo al bicocca con la primavera sicuramente è un prodotto che userò molto molto volentieri poi questi rossetti mi piacciono quindi non farò fatica immagino poi allora Dior numero 623 Dior Addict questo è uno dei miei rossetti preferiti della vita non è uno di quelli su cui mi sono focalizzata come vi dicevo prima e l'ho praticamente finito non lo do per finito in questo video perché allora come vedete da un lato sono arrivata al limite diciamo del packaging dall'altro mi manca meno di quello che voi vedete perché a un certo punto comincia la plastichina trasparente io credo questo di finirlo in 5-6 utilizzi anche questo era abbastanza avanti quando ve ne ho parlato questa è la quantità di prodotto che ho utilizzato da quando ce l'ho sono rossetti questi che non si fa particolarmente fatica a terminare perché sono sheer perché sono idratanti morbidi e questo è un rossetto stupendo che vi dirò quando terminerò mi dispiacerà anche averlo terminato poi Fito Lip Twist di Sisley questo era un matitone il numero 1 che io avevo da parecchio tempo anche questo era a buon punto e questo l'ho terminato se guardate l'altro video non mi mancava molto per terminarlo l'ho utilizzato 15 giorni non di fila diciamo però circa un paio di settimane e sono arrivata completamente a termine quello che vedete qui è la plastichina è anche qui un prodotto idratante morbido un nude facilissimo da utilizzare piuttosto chiaro ma molto brillante quindi l'ho messo sopra anche dei rossetti l'ho portato in borsa e onestamente non ho fatto fatica a terminarlo anche questo era parecchio prodotto all'interno vi faccio vedere com'era quanto prodotto c'era non so se lo vedete e l'ho finito sono felice perché questo prodotto costa tantissimo quindi il fatto di averlo utilizzato tutto mi fa molto piacere nota margine i prodotti finiti del progetto smaltimento non li metterò nei video prodotti finiti li terrò sempre da parte in modo poi alla fine del mio anno di smaltimento vedere che cosa ho realmente terminato scusate mi sta tornando la tosse poi rossetto di fior di magnolia questo che era in colorazione 04 mauve molto molto bello l'ho utilizzato un pochino non è il rossetto su cui mi sono focalizzata di più diciamo che quelli che ho usato di più sono stati questi due proprio per vederli finire però questo non farò fatica soprattutto in questi mesi invernali ad utilizzarlo perché si tratta di un mauve anche in questo caso è un prodotto morbido idratante e lucidino facile da portare nel quotidiano si gestisce molto facilmente ne ho utilizzato comunque più della metà ho già consumato la scritta che c'era qui il simbolo insomma di fior di magnolia potrei riuscire a terminarlo non ne sono certa perché non è poca questa quantità di rossetto però non è un rossetto difficile da usare poi vediamo un po' cosa mi manca claren un altro rossetto questo rossetto che indosso oggi è un rossetto che io amo tantissimo della linea jolie rouge è il numero 723 raspberry si tratta di questo colore sul rosa rosa berry chiaro bello acceso vivo lucido che mi piace anche di inverno perché illumina molto il viso anche questo è un prodotto idratante veloce facile da utilizzare sicuramente in primavera mi lancerò su questo senza dubbio questo più questo saranno i due colori che in questo progetto utilizzerò di più da marzo in poi comunque li utilizzo ancora ma meno mi focalizzerò ora sul fior di magnolia vista la stagione sicuramente questi in primavera estate li sfrutterò parecchio e vedremo vedremo perché anche qui ne manca un po' poi con i prodotti labbra dovrei aver finito sì andiamo agli ombretti Kiko Stika il shadow numero 38 questo l'ho usato tanto è uno dei prodotti occhi su cui mi sono focalizzata proprio perché è un prodotto velocissimo da utilizzare nel quotidiano e quando non avevo tempo né voglia di truccarmi non mi è stato assolutamente difficile prendere in mano questo stick tra l'altro è il mio preferito direi il numero 38 si tratta di un top mauve che appunto va un pochino a lilla ve lo faccio vedere qui leggermente leggermente così un po' brillante io questo lo metto su tutta la palpebra sfumo i bordi lo metto anche sulla rima inferiore non dentro perché ci sono un po' di brillantini ma sulla rima inferiore sfumato lo uso tranquillamente e faccio un trucco velocissimo che nella quotidianità è molto facile sia da fare che da portare allora il prodotto era già abbastanza utilizzato quando ve l'ho mostrato ma ne ho usato parecchio ora io non so cosa vi ricordate dell'altro video però io credo di averlo usato ce n'era almeno il doppio di questo quantitativo io questo credo che lo finirò senza dubbio entro entro l'anno onestamente non penso sia particolarmente complicato andiamo alle cose più complicate cioè gli ombretti le palette di ombretti non ci sono palette gigantesche però insomma le polle cialda di polvere sono più difficili da finire dunque di ortre colori numero 781 questa è una delle mie palette storiche che contiene soprattutto un ombretto che io amo moltissimo ed è quello che mi piacerebbe terminare entro la fine dell'anno si tratta di questo ombretto quando ho fatto il progetto il primo video l'avevo scavato ma non c'era il buco forse cominciavo a vedersi appena appena adesso il buco c'è uso molto volentieri questo ombretto pur essendo una palette non nuovissima è comunque una palette che ancora ha questo tipo di scrivenza non mi dà alcun problema sugli occhi è un colore che porto anche qui facilmente nella quotidianità diciamo che considererò il progetto smaltimento di questa palette riuscito se finirò o allargerò di molto questo buco anche qui non credo sarà difficile perché è uno dei miei colori preferiti soprattutto per quei trucchi da fare in velocità nella quotidianità anche questo ce l'ho nel cassetto del bagno così come questo non ve l'avevo detto invece questi due rossetti quello di Clarenne e quello di Dior ce li ho su alla mia postazione principale perché li uso anche quando faccio trucchi strutturati per uscire questo di fior di magnolia e questo invece così come questo li avevo giù nel bagno poi Dior due colori io qui purtroppo ho fatto un errore scusatemi ma ho la sedia messa male ho fatto un errore io questo duo di ombretti di Dior che amo tantissimo l'avevo salvato dal decluttering perché amo questi colori e hanno nonostante sia passato del tempo questo tipo di scrivenza sono morbidissimi in cialda c'è questo verde militare che è qualcosa di spaziale e questo verde acido stupendo ho usato tanto questa palette mettendo il verde acido all'interno diciamo nella prima metà della palpebra e questo nella seconda oppure usando solo questo che è un opaco su tutta la palpebra la resa sugli occhi è ancora bella il prodotto è ancora sfumabile nulla da dire ma purtroppo è andato male ne sono certa o comunque è successo qualcosa a questi ombretti che mi dà fastidio alla palpebra io li ho usati solo due volte da quando ho iniziato questo progetto ma mi hanno fatto entrambe le volte lacrimare gli occhi mi sono resa conto che dipendeva da questo prodotto il problema perché mi bruciava proprio la palpebra mi bruciava la palpebra e mi lacrimavano gli occhi non hanno non c'è nessuna patina i colori non si sono ossidati così alla vista non parrebbero andati a male però io vi devo dire questo ho fatto mente locale su su quanto tempo abbia questa palette io l'ho comprata non mi ricordo di preciso quando ma sono certa al 100% che non ero ancora sposata e a febbraio faccio 12 anni di matrimonio quindi ecco è vero che le polveri non scadono necessariamente nella data indicata dalla palette vediamo questo cosa diceva non c'è neanche scritto boh non lo trovo comunque diciamo che io continuo a utilizzarle tranquillamente per tanto tempo ma più di 12 anni probabilmente sono davvero un pochino troppo in ogni caso quello che io vi consiglierò sempre è di seguire le indicazioni riportate dalle confezioni sempre per quanto mi riguarda per quanto riguarda i prodotti in crema fondotinta mascara rossetti così così però sui fondotinta e mascara io sono inflessibile perché il fondotinta va a coprire tutto il viso il mascara va negli occhi però insomma sulle polveri provate perché a un certo punto sicuramente dopo 12 anni scadono anche loro quindi io questo prodotto purtroppo lo devo buttare via ma ho deciso di sostituirlo lo sostituirò con aiuto mi stava cadendo con questa splendida palette di Yves Saint Laurent che è la 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 mamma mia la numero 8 che ha una gamma colori simile non è una palette simile ma una gamma colori simile parliamo anche qui di grigi verdastri oro verdastri c'è comunque del verde all'interno ho deciso di utilizzarla perché anche questa comincia ad essere vecchiotta ma avrà 4 anni ecco non 12 questi sono i colori sono stupendi l'ho usata di recente un paio di giorni fa proprio e mi piace da morire è una palette un po' diversa da quella a cui siamo abituate oggi si tratta di ombretti tutti satinati ma non metallici non si tratta di ombretti bold non si tratta di ombretti scenici ma si tratta di ombretti con cui poter fare dei trucchi estremamente eleganti in nuance di colore che non si vede tantissimo in giro ultimamente trovo che il trucco che ne esce sia un trucco davvero originale adatto a qualsiasi occasione elegante neutro direi ma con quel qualcosa in più uno charme diverso rispetto ad altri mi piace veramente tantissimo tra l'altro giusto per completezza quando ho usato due giorni fa questa palette l'ho abbinata all'utilizzo della matita di smashbox che mi avete visto nel video sui miei regali di natale che è questo splendido grigio top il trucco che ne è uscito usando questa matita all'interno dell'occhio e sfumata sotto la rima dell'occhio un pochino come l'eyeliner sfumato e una combinazione di questi colori è appunto un trucco veramente molto elegante e direi sofisticato e facile da portare nel quotidiano perché appunto non eccessivo quindi questa palette andrà a sostituire questa nel mio progetto smaltimento poi Pupa un'altra palettina questa è un'edizione limitata riterrò riuscito il progetto se andrò a bucare a usare molto questo marrone forse anche questo colore champagne sono dei colori bellissimi ma non mi servono nel senso che ho tanti colori di questo tipo anche se questi sono veramente molto molto belli questa l'ho usata un po' meno rispetto alla di altri colori che vi ho fatto vedere prima perché mi sono concentrata più su quella ma non è una palette difficile da usare nei trucchi quotidiani quindi la utilizzerò volentieri vedremo come andrà a finire poi palette un po' più grande l'ultima che ho nel progetto smaltimento è la Meet Matte Nude non finirò mai questa palette anche perché ha delle cialde così ma l'ho messa in questo progetto perché mi sono accorta che nel tempo da quando ce l'ho pur essendo una palette che ha ancora questa scrivenza sta cambiando un po' dal punto di vista della qualità diciamo degli ombretti era una palette che partiva con ombretti abbastanza secchi proprio come formulazione quelle che sono seguite a questa cioè la Meet Matte Trimony e la Meet Matte Adorn sono più morbide hanno cialde più burrose è una formula proprio diversa questo non significa che non siano scriventi e facili da sfumare comunque ma mi rendo conto che si stanno seccando nel tempo quindi intendo sfruttarlo il più possibile quest'anno proprio per questo motivo l'ho utilizzata tantissimo ho scavato moltissimo il panna che uso quasi nel quotidiano questo non so perché ha una formula diversa da tutti gli altri ombretti è un colore una cialda morbidissima burrosissima che non è cambiata per nulla nel tempo quindi la voglio usare finché è buona il più possibile non so se riuscirete a vedere quanto è scavata ma le cialde sono enormi poi ho utilizzato parecchio questo marrone caldo che è Matte Rosen stupendo l'ho usata sempre come palette complementare con altre e questo Matte Sing che è un colore da transizione favoloso molto particolare questo però guardate che meraviglia si sta veramente un po' tanto seccando quindi diciamo che se riuscirò a bucare questo panna e utilizzarlo tanto e utilizzare ancora un po' di questo soprattutto mi riterrò soddisfatta avevo poi a marcia in quel video menzionato due palette che non ho messo nel progetto smaltimento perché era irrealistico ma che ho deciso di utilizzare il più possibile quest'anno queste le ho sempre tenute nella mia postazione principale quindi alla mia scrivania così come anche questa la utilizzo alla scrivania insieme ad altre palette mentre le più piccole le avevo giù queste le tengo lì e ho deciso di sfruttare il più possibile nel quotidiano questa è la nude nude di The Balm che è una delle palette più vecchie che ho ce l'ho in questo pack interno che probabilmente non si vede più su youtube perché è stato cambiato ma diversi anni fa l'ho utilizzata molto questa palette non c'è niente da dire però voglio usarla ancora specialmente questi colori top che sono i miei per utilizzare tutti i giorni quando non ho voglia di pensare troppo al trucco è ancora molto molto scrivente mi piace tanto questa non ha alcun problema non mi dà fastidio in nessun modo questa palette avrà sei anni o sette non l'ho usata tantissimissimo l'ho usata due o tre volte da ottobre quella che ho usato di più tra queste due è la naked di urban decay che tra l'altro è andata a fuori produzione l'ho usata di più perché sapete che io non ho mai nutrito un amore pazzesco per questa palette e ho deciso di sfruttare al meglio quest'anno ho fatto trucchi piuttosto semplici trucchi quotidiani usando al massimo uno o due colori non trucchi particolarmente in contrasto per questo tipo di utilizzo non mi dispiace affatto i miei colori preferiti sono i preferiti praticamente di tutti quindi half baked questo bellissimo oro così come smog così come dark horse sono colori veramente belli anche dark horse è un colore stupendo perché ha un po' di verde all'interno e mi piace tanto vabbè ma li conoscete tutti e poi questi due colori più rosati che sono toasted e hustle toasted è bellissimo è un marrone rosato molto molto bello e hustle che è un bel marrone anche questo più scuro e rosato molto belli io non capisco per quale motivo questa palette tutte le volte che la swatcho la trovo fenomenale sugli occhi a me non rende mai come vorrei o non la so usare non è una palette probabilmente che ispira il mio tipo di fantasia comunque insomma per trucchi quotidiani mi piace la qualità è buona per cui la userò ancora volentieri quest'anno queste due palette grandi che vi ho menzionato ora ripeto sono a margine del progetto smaltimento perché non terminerò nessuna delle due però voglio sfruttarle di più quest'anno ripeto io ho terminato questo aggiornamento dunque il primo video l'avevo fatto il 24 ottobre voi questo lo vedrete a metà gennaio diciamo che febbraio marzo aprile ci ritroviamo verso aprile con questi prodotti e vediamo un po' come è andata vi ringrazio per avermi seguito anche oggi vi mando un bacio e alla prossima se vi va ciao ciao